la asci lara salvatore c'è bella imbalanzante per terra o non devo guardare per terra faccio finta che sia tutto dritto luce ombra luce ombra non si vede un caracloss chissà se c'è il droppino ancora ci siamo salvato le lascia andare un po nel sottobosco a rischio perdigone che è sempre la rapida c'è check check doppia sponda questa funziona ancora che non è sul perdigone in mezzo quel ramo è da togliere io ognuno seguirà la sua strada io vado a sinistra salvo va dritto quello che riesco a fare è la vecchia traiettoria adesso mi piace passare nelle cogliere che occultano le pietre la ruota della diana c'è le ragnate le hanno tolte il marco e salvatore quindi oggi niente ragnate di faccia non e e e e c'è smalatona un po' sterno oggi sono un po' poco fresco un po' fuori rotta adesso si entra nel letto di pietra come ricordo male infatti ecco qua adesso il lettone è pericolosa perché non si bene qui niente ma di sollevare il poster ma oggi ecco l'ho ora ora no c'è città c'è città c'è città c'è città le gambe da un bel da un bel oh questo pietrone in mezzo non era piacevole è questo quindi piacerebbe tanto riaprire la discesina wow 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 è golì è il sottotitoli è il sottotitoli Grazie.